Ciao a tutti, sono uno studente dell'ITC Gentili e oggi insieme ad alcuni compagni di classe vi mostreremo alcuni progetti riguardanti al nostro indirizzo SIA e a cui abbiamo partecipato. Il primo concorso a cui abbiamo partecipato è Let's Up. Let's Up è stato un progetto rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie pensato per avvicinare i ragazzi al mondo delle applicazioni per dispositivi mobili attraverso un concorso di formazione online che offre la possibilità di acquisire capacità nello sviluppo di applicazioni per Android utilizzando moltiplici codici. Un valido progetto nazionale a cui i nostri docenti ci hanno spinto a farne parte. Un altro argomento che abbiamo approfondito quest'anno riguarda sempre il linguaggio di programmazione ed è il linguaggio SQL. In informatica SQL è il linguaggio standardizzato per database basato sul modello relazionale. Oramai sempre più aziende ricercano personale competente in grado di programmare e gestire enormi database che sanno, oltre a programmare, scambiare relazioni con l'estero e quindi che hanno padronanza con la lingua. Quindi consiglio di iscriverti a Let's Up Gentile dove potrai diventare esperto informatico in aziende in ambito internazionale. Grazie per la visione